E' ora di andare E' l'età a sinistra Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Voltare a sinistra Voltarucha Allpene Voltare Voltare Grazie a tutti. Andare dritto. Tenerse a sinistra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andare dritto. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. No. 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 Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Grazie a tutti. 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 Andate a tutti. Tenirsi a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a tutti. Grazie a tutti. Voltare a tutti. Grazie a tutti. Voltare a tutti. Voltare a tutti. Voltare a tutti. è stato...